Real Montepaone Corsaro a Badolato. La squadra di Mister Pisano ottiene una vittoria importante su un campo difficile dopo una gara divertente, corretta e ben giocata da entrambe le squadre. Primo tempo equilibrato che si chiude senza reti, con la prima vera azione pericolosa al ventunesimo ad opera di Marco Voci che prova a superare il portiere, strepitoso menniti in uscita a neutralizzare la minaccia. La ripresa vede gli ospiti pericolosi e costantemente presente nella metà campo avversaria grazie anche all'entrata in campo di Mellace che ha saputo dare più ordine alla manovra della squadra. Al ventesimo arriva la rete di Marcellino pronto a chiudere un triangolo e battere menniti. Dieci minuti più tardi Marco Voci chiude la gara. Nel finale prova a riaprire la partita la squadra di Mister Calabrese, ma tutti i tentativi vengono ben controllati dalla difesa ospite.